Ciao a tutti ragazzi, a tutti i miei amici lo so che staranno guardando questo video, vi saluto. Sono tornato dopo due anni, non vedete il mio amico Alessandro ma lui mi posterà il video della regia, quindi lo salutiamo. Passaggieriamo tutte queste schifezze che le ho comprate in Grecia e nel negozio avarese di odistore, tipo questa lattina di Tony F, metti a fuoco. Siamo dalle bibite, partiamo con gotoni alla menta e lime. Mamma mia, sa tantissimo di menta, guardate che colore, sembra una pozione, ha l'odore, sa molto di menta, gli do un sette e mezzo, assaggio. Posso dire per oggi? Fa cagare. Vabbè però non è così male, però è aspero. Altra lattina, bevanda classica, la versiamo. Assaggiamo. Ah questo è buono, l'odore è la prima, sette e mezzo. gusto. Allora questo tre, questo sei, dottor pepper, tipo coca cola ma l'odorata sta di gelato. proviamo. Allora. Bocciata. Sbocco. Mi scape san, dedica a capoplasa. La ciliegia. ciliegia. Dai. Questo è succo, dovrebbe essere buono. Questo fa un po' scherzi. Questo mi sa che è buono. proviamo quello all'arancia. E te lo sei zuccando. È il miglior, miglior bevuta di oggi. qui. Faccio una classifica generale. Sì, dai. Ti faccio. Ultimo posto, ti metto la dottor pepper. Poi ti metto questa. Poi ti metto questa. Poi ti metto questa. Sì. Ti metto questa. Sì. Poi ti metto questa. Sì. E poi ti metto questa. Alla fine il succo d'arancia ha vinto su tutto. E mettiamo il podio. da cosa partiamo? Partiamo dalle gallette di Alex Poli. Ok. Sono gallette. Alla matriciana. Alla matriciana. Vole? Sì. Di schifo. Ah. No. Com'è? Si fa a mangiare. Buone. Ok. Buonissima. Assaggia? Buona vero? Queste sono KFC. KFC. Quindi a che gusto? Pollo. Pollo fritto. Vai. Non riesci neanche a mangiarla? Allora. Ora riprendiamo con Sweet Chili Doritos. Scaluta anche questa. Allora proviamo queste. Queste le diamo alle galline. Ok. No lei sa. Prese in Grecia. Scalute anche queste. Aspetta che guardo. Sì. Dai. Mi viene da sboccare veramente. Ma sono patatine. Alla pizza. Dai. Cioè sta marca qua o... No ma è bello. Cioè sta marca qua di pizza. Anche questa le galline. Bocciacci. Ok. Proviamo questi Cheerios. Gusto formaggio. Scaduti anche questo. Scaduti. a non vedere. Mi sta venendo l'ebola. Stai di piedi. Stai più costre. Vedi? Allora. Abbiamo finito con il salato. Migliore Alex Theory. Amatriciana. E come bevande. succo all'arancia capresano. Ora passiamo gli dolci. Abbiamo un galletto di prima al cioccolato e cocco. Proviamole. No. Proviamo prima questi. Skittles. Skittles. Questi sono degli M&M's. Buone. Un po' dolciastere. Beh. Al pen di Milka. Questa è Milka. A che gusto? Gusto... M&M's. M&M's. Odore al cioccolato. Buono. Risis. Beh. Dall'odore mi viene da sboccare veramente. M&M's. M&M's. Che burro d'arachidi. Questo è Risis. Sticks. 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 Al burro d'arachidi. Forse l'arachidi mi dà un po' fastidio ma... Veramente è la cosa più morbida che io avevo mai dato. Buona. Oh. Meno male. Oreo. No. Rega. Non ho ancora. Che gusto è? Oreo. Vanilla e caramello. M&M's. Cookies and cream. No. Scusate per i cani che rompono un po' i coglioni. No, non me la sento. Non te la senti. Essaggia te. Sanno proprio di... È molto dolce ma è buono. Di schifo. Sette al cocco e cioccolato rubi. Sì. Dai. No, ho paura. Dammi qua. Dai, come un panino. Mmm. Ah. Ho preso un po' di polverina. Ah, che schifo. Queste devono essere buonissime. Queste sono... Arrivano direttamente dagli anni Ottanta. Io le ho già assaggiate. E si chiamano? Frizzi pazzi. Ok. Proviamo. Chi viene a scuola con me le conosce perché le hanno già mangiate. Concluiamo in bellezza. Scoppietta. Unissime. Tra i due vince... Milka! Allora, io ti dico le migliori tre cose che ho mangiato. E anche bene. Caprisano all'arancia. Gallette all'amatriciana. Milka! E Milka! Milka! I am a menzio! Sono tutti i miei fan! Tre, due, uno! Grazie a tutti.